Eccoci all'antica fattoria di Paterno, arrivano i primi ospiti e qui si svolgerà il ricevimento di nozze di Pietro e Simona. Ecco la paggetta, paggetta Eugenia, le è piaciuto il matrimonio? E' stato bello il matrimonio con la sposa Simona? Tu sei stanca adesso? Sì, forse c'è da fare qualche riposino. Questo è il magnifico panorama che si scorge dalla terrazza coperta. E tanti confetti per festeggiare gli sposi. Ancora non abbiamo individuato i locali dove mangeremo. Continua il nostro viaggio in questo bellissimo locale, antica fattoria di Paterno. Ah, ecco, qui vedo delle tavole apparecchiate, spero di riuscire a fotografarle e che basti l'illuminazione. vediamo se riusciamo a capire quale sarà il tavolo degli sposi. Così. 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 Così.